Per venire, innanzitutto siamo all'interno, questo è un percorso di partecipazione che si colloca all'interno di un processo decisionale, cioè che porta a una decisione con un atto pubblico. È un processo che va dal 2012, da quest'anno, fino in chiusura al 2013, punterà alla redazione del piano regolatore. Ha quattro macro tappe se vogliamo, analisi, progetto, valutazione e scelta. Siamo nella fase di analisi, quindi è una prima fase in cui costruiamo insieme all'amministrazione quello che abbiamo chiamato quadro conoscitivo comune. Il percorso è quello che forse non è più facile, diamo un contributo insieme ad altri percorsi di carattere tecnico che dopo vi illustriamo brevemente. C'è anche una seconda fase in prossimo anno dedicata proprio agli approfondimenti di carattere progettuale e alla valutazione degli scenari di piano. Quindi noi costruiamo un contributo conoscitivo e tratteggiamo delle piste di lavoro e delle indicazioni per la progettazione e poi avremo l'opportunità al prossimo anno di seguirle, di valutarle insieme, di approfondirle e anche di ridefinirle. Quindi tutti quelli che hanno evidenziato quando è che facciamo le proposte possiamo tratteggiarle. L'importante è avere adesso in questa fase un quadro di analisi saldo e contenuto. La parte di decisione in questo processo dove, quando c'è e perché. Qualcuno ha chiesto ma cosa ha deciso l'amministrazione, quando decide o che idea ha. Innanzitutto la prima decisione messa in campo è quella rispetto alla procedura. Lo strumento urbanistico generalmente è uno strumento faraonico e molto complesso sia nella procedura, nei tempi e in ciò che mette in moto. Con i tempi che ci sono, le crisi in atto, la necessità di essere flessibili, versatili, facilmente adattabili alle varie contingente richiede una riflessione molto importante sulla procedura. La prima parte messa in campo è proprio questa. Un'attenzione ad avere una procedura corretta, facile, più snella rispetto alle altre ma allo stesso tempo più completa ed esaustiva, proprio per tenere conto della complessità che è in atto in quasi tutte le società. Viene distinta in maniera quasi netta l'analisi dal progetto. Perché questo? Tendenzialmente tutta la parte progettuale ha ovviamente una sua parte di analisi, di approfondimento e anche di argomentazione. Ma deve essere chiaro che esiste una conoscenza e un'analisi che è sempre valida, la aggiorniamo insieme, ma deve esserci un quadro, un punto zero che impariamo a costruire, a definire e a utilizzare come riferimento. Ogni volta che viene fatto un piano tendenzialmente si fa un'analisi nuova. Questa volta l'amministrazione dice ne facciamo una che poi aggiorniamo. Poi tutti i progetti, i piani cominciano a relazionarsi con questa analisi in modo da aver distinto quello che è un riferimento, una tendenza e un modo di fatto con quello che poi è un progetto. Il progetto di piano poi svilupperà i suoi approfondimenti di carattere conoscitivo, ma non deve essere autoreferenziale, cioè mi faccio un progetto e me lo giustifico con delle analisi. Facciamo prima una serie di riflessioni. Si impianta il dispositivo di progetto con delle direttive, cioè danno delle direzioni, dato l'analisi la progettazione sviluppa su questi binari e poi c'è un progetto che farà i conti con questa analisi e così il cittadino e voi che avete partecipato avrete più possibilità anche di fare una valutazione di quello che emerge. Le direttive è il primo atto decisionale che l'amministrazione fa, tendenzialmente in particolare in questa regione le direttive vengono prima delle analisi, in consiglio comunale, in giunta, nelle riflessioni tecniche all'interno si partoriscono queste indicazioni. Correttissimo, però rispetto ai tempi attualmente in corso e alla complessità che ci siamo chiamati a gestire, avere un'analisi chiara, esaustiva e completa permette poi di dare un supporto in più a chi dovrà decidere come definire questi binari per il progetto di piano. Quindi la scelta prima consapevole dell'amministrazione è faccio le direttive quando ho chiaro tutti i passaggi, sia quello rispetto alle tendenze in atto, ai dati, ma anche a quelle che sono le aspirazioni del cittadino. L'altra scelta importante che è stata fatta ed è visibile, pubblica, è all'interno del bando. Il bando del piano prevede proprio di scindere quella che è l'analisi, c'è un'analisi socio-economica e territoriale che viene condotta a parte di cui noi diamo il nostro contributo, c'è un'analisi, c'è la parte di progettazione che è un incarico a parte e la valutazione in particolare di carattere ambientale è un incarico a parte. Questo per non avere il circolo abizioso di autoreferenzialità, analizzo, progetto e mi autovaluto, è distinto e questo ha permesso anche di avere un risparmio economico non indifferente, superiore ai 100.000 euro rispetto dell'incarico. Quindi è una scelta di efficienza rispetto alla procedura ma anche di corrette tecniche. All'interno del bando ci sono due aspetti importanti che mettiamo in luce in maniera sintetica ma vi invitiamo a vedere il bando su internet. Uno, già nel bando è dichiarato che esiste questo percorso di partecipazione e i progettisti hanno l'obbligo di prenderlo in considerazione. Quindi c'è un link diretto e di argomentare all'interno le proprie proposte in che modo hanno considerato quello che emerge da questo percorso. La proposta metodologica che dovranno presentare, chiusura di bando scade il 15, quindi il lunedì scade il bando e quindi sappiamo quanti sono i concorrenti e ci sarà la valutazione, è proprio di mettere in evidenza come immaginano di trattare nei propri elaborati, nelle proprie relazioni quello che emerge da questo tipo di dibattito, considerando che non sono dati tecnici quelli che noi forniamo ma descrizioni di carattere qualitativo sul territorio. L'altro elemento importante che viene evidenzato sono proprio questo tema degli ecosystem service, i servizi ecosistemici sul territorio. Che cosa sono? Rispetto all'osservatorio nazionale sul consumo di suolo dove una delle cinque ragioni indagate nel 2009 è proprio Friuli, venite Giulia, è messo, vi cito solo un passaggio di questo osservatorio, la scarsa consapevolezza di quali coperture del suolo, quindi che tipo di suolo, vengono trasformate e quali effetti sociali e ambientali ne possono derivare, quindi questo è vero. Per ogni unità di superficie trasformata c'è uno scambio tra il suo valore di mercato e le funzioni ambientali che cesserà di svolgere. Le funzioni sono di diverso tipo, anche il verde di carattere dedicativo ha una funzione per il benessere psicofisico della popolazione. Tutto il suolo che è capace di produrre cibo o risorse prime è un tipo di servizio, tutto il suolo che è capace di assorbire l'inquinamento dalla media carbonica piuttosto che altro. Nel bando sono descritti questo tipo di servizi e venne chiesto al progettista di indagarli e di considerarli tutti, anziché partire da un piano che battezza il numero di popolazione col quale fare i conti, viene chiesto prima di tutto di quantificare e di valutare il suolo come risorsa rara sul territorio. Questo vuol dire progettare il piano a cubi zero? No, non vuol dire questo. Di più può anche emergere che oltre al cubo zero sia necessario bonificare, ripualificare e ritornare a verde altre aree, quindi addirittura sottrarre parte urbanizzata, quindi è un salto addirittura in più. Ambiente e benessere è questo link diretto che l'amministrazione ha posto a bando, si parte da questo principio, da questo concetto la fonte dei servizi ecosistemici, in particolare il suolo libero non urbanizzato si configura come bene pubblico e risorsa rara. Questa è la prima forte decisione e scelta che l'ambientazione ha messo in campo, l'unica fatta fino adesso, perché adesso è necessario analizzare, lo sapete. La prima fase che stava da scorsa e che l'abbiamo inquadrata è coinvolta da condivisioni che questo quadro conoscevano con noi. Abbiamo un'analisi socio-economica territoriale, di cui a breve avrete dei risultati, abbiamo un'analisi preliminare di carattere urbanistico e ambientale di cui anche su questo ci confronteremo in chiusura assieme e un'analisi di carattere esplorativo che conduciamo insieme a voi. Tutte queste non vengono consegnate in forma di testi separati, ma diventano un testo unico, tutte e tre le analisi hanno la stessa identica pari dignità e come se avesse ricevuto un incarico gratuito, però questa è la meno, da parte dell'amministrazione. Come l'amministrazione non interferisce sull'analisi di carattere tecnico che è assegnato agli altri non interferisce neanche sulla vostra. Ecco perché non ce la siamo sentiti di cogliere la volta scorsa l'invito del professore Finzi ad avere una commissione tra quello che può essere un contributo tecnico di un esperto come lui o di un amministratore rispetto all'analisi. Piano un attimo, non ha le sue competenze, voi ne avete una particolare, conosciute il territorio, lo vivete e il documento che consegniamo è il vostro punto di vista. Nulla vieta che ci siano in chiusura delle valutazioni anche sul nostro lavoro, per l'amore di Dio ce le auguriamo da parte non solo di Finzi ma anche di altri, ma avete la garanzia e la parola che il prodotto che noi consegniamo è farina del vostro sacro. L'analisi che conduciamo appunto è con i laboratori, noi partiamo, siamo fatti con il simbolo, abbiamo ragionato sulle criticità, le opportunità dell'oggi e sulle aspettative per il domani. Nel laboratorio affrontiamo invece un tema un pochino più ampio, tutto il tema dei saperi, delle situazioni e delle considerazioni. Diamo un contributo a Cattunico in quanto partoriamo una parte del quadro conosciutivo comune, una mappa di comunità e le indicazioni e le linguida per le direttive del piano. Noi stiamo costruendo insieme una proposta per la città, non stiamo parlando per la città, questa proposta per la città la approfondiamo insieme, la indaghiamo insieme e la presentiamo insieme in iniziative più vaste che nel periodo di dicembre chiameranno a valutare il nostro lavoro i cittadini. Troveremo in modo e maniera di raggiungere tutti però sono invitati a dare un' propria valutazione, osservazione e contributo al lavoro che stiamo facendo affinché si possano o riconoscere il lavoro fatto o eventualmente integrarlo. È come se fossimo un team di lavoro un pochino allargato perché siamo sui 100 partecipanti però è questo il lavoro che stiamo facendo. Tutti gli approfondimenti che andremo a fare possono essere fatti con diverse modalità, dalle incursioni urbane sul territorio alle passeggiate i sopralluoghi insieme, vite foto riprese col quale fare le vostre segnalazioni, i gruppi progetti. Abbiamo aperto il sabato pomeriggio proprio per dare la possibilità a tutti quelli che hanno detto avrei delle idee, avrei un gruppo che vogliono, avrei piacere di ragionare insieme, non abbiamo il posto. Questo è tutto quello che oggi noi affrontiamo insieme, consideriamo insieme può essere approfondito, rivisto, integrato e dettagliato nel pomeriggio o anche a casa vostra se preferite, ma c'è uno spazio a vostra disposizione per tutti gli approfondimenti. Abbiamo il trailer che andremo a fare anche il secondo, come già dai giovani, i blog e il social network ci danno mano sulla parte interazione. L'esposizione pubblica è il fatto che esprimiamo il nostro lavoro in maniera pubblica nel periodo di dicembre quando finiamo i laboratori, confezioniamo insieme una mostra a fase di poster, pannelli abbastanza esplicativi e di facile lettura che mettiamo a disposizione. Se fosse bel tempo direttamente in in piazza e in strada, vediamo come renderla comunque visibile al maggior numero possibile di persone. A che punto siamo? Nel simposio abbiamo fatto una lettura generale della città, le dimensioni, la posizione e la prossimità rispetto a alcune situazioni, le condizioni, le regole, le risorse, cultura e società. Nel simposio ne abbiamo fatto uno sostenibile e affrontiamo oggi il tema mobile. Ci siamo chiesti quali saperi, quali situazioni e quali criteri far emergere? Cos'è che stiamo chiedendo? Qualcuno mi ha detto ma perché non ci dai prima i dati? Ritorniamo nel circolo abistoso di prima, possiamo tranquillamente dare tutti i dati possibili ma sarebbe una scelta di carattere arbitrario. Quello che noi invece abbiamo intenzione di fare è capire di quali dati abbiamo bisogno per capire meglio le situazioni che di volta in volta elenchiamo con voi. Quindi costruiamo questo bagaglio informativo di modo che non c'è nessuno che, passatemi il termine, lamentazione, mi scusi, possano in qualche modo manipolare l'informazione e darvene soltanto alcuna. La chiediamo questa informazione perché ci serve, perché ci è utile, perché ci può arricchire. Allo stesso tempo siamo nelle condizioni anche di darla l'informazione. Se guardate nel foglio che è stato consegnato, una parte interessante che ho messo la volta scorsa, è che avete citato nella prima parte, nei saperi da condividere, molte analisi, molti progetti, molte ricerche già condotte a Pordenone che in un qualche modo abbiamo reso attuale, l'abbiamo fatto in 2000 ma forse ancora è valido, quindi lo richiamiamo e ne facciamo un buon uso. Allo di altre città, Milano, Roma o altrove, dove un certo approccio all'analisi potrebbe risultare interessante, chiamiamo dentro anche queste e costruiamo questo bagaglio. Una cosa utile è stata, avete lasciato anche delle provocazioni alla città, delle domande che vorreste porre ai cittadini, quella più immediata che mi viene in mente è come mai i cordelonesi non usano il verde pubblico, è uscito in uno dei gruppi, ci sono alcune domande, questioni su quali non possiamo dare noi una risposta diretta, ma che proviamo a indagare sul territorio. Chi conduce l'analisi economica ha la possibilità anche di mettere in campo strumenti per sondare questo tipo di questioni, altri li metteremo in campo. La parte dedicata invece alle considerazioni, l'abbiamo chiamata, guardate sul retro, attenzioni, perché in realtà sono delle puntualizzazioni e delle attenzioni, ci sono obiettivi di carattere generale che avete elencato, dovremmo poterli anche far diventare obiettivi per la progettazione con dei criteri che possono appunto definire, dare delle indicazioni per queste direttive al soggetto di piano. Vedete ci sono delle caselle vuote, questo non è un foglio che blindiamo oggi una volta per tutto, siamo disponibili ovviamente ad arricchirlo, oggi pomeriggio chi non ha potuto partecipare la volta scorsa verrà per dare un contributo, tutte le volte facciamo circolare questo foglio in modo da condividerlo, però lo chiudiamo a fine novembre questo foglio, così come tutti gli altri. Quindi siamo in tempo a rivedere, aggiustare, alcuni di voi hanno fatto delle correzioni oggi. Benissimo. Ci sono anche delle idee, ci sono arrivate diverse idee via blog in particolare, con delle progettazioni o delle esplorazioni progettuali che potrebbe essere interessante mettere in discussione, le stiamo al momento elencando tutte, stiamo costruendo e elaborati che possano renderle evidenti per tutti, anche questo è materiale che a un certo punto metteremo a disposizione, appena abbiamo esaurito la prima fase di lavoro assieme, quindi sempre verso novembre e ci facciamo un po' i conti assieme, guardiamo rispetto agli obiettivi che ci poniamo e che condividiamo, quali possiamo assumere effettivamente come proposta. Possiamo anche rivederle, possiamo anche integrarle, possiamo anche aggiornarle. Avete ricevuto un report che articola esattamente i vostri post-it, questo è il tipo di rielaborazione successiva che può essere fatto, cioè per mettere in evidenza meglio alcuni passaggi. riceverete sempre entrambi, il report con la vostra trascrizione e questo quadro di sintesi che può essere d'aiuto per il lavoro successivo, per integrarlo e per approfondire. Abbiamo trovato questi temi, due variazioni le troverete, antiché chiamare rigenerazione urbana, l'abbiamo richiamata rigenerazione del contesto perché in quel gruppo sono emersi vari aspetti, non solo quelli di carattere urbanistici ma anche quelli culturali, sociali eccetera. Centro storico è diventato centro e centri, giustamente vi ho fatto notare perché sono centro storico, il Corcomeduna, Valmoncello, Villanova, Torre, gli altri dove stanno? Benissimo, tiriamo dentro anche questi. Oggi abbiamo questi quattro temi, potete scegliere quello in cui andare, cercheremo di distribuire i mani reti ai partecipanti, la modalità è sempre la stessa e il lavoro è sempre la stessa, la facilitazione di oggi con la presenza di un tecnico, di un facilitatore sarà di supporto e quindi aiuterà un pochino nella gestione, in chiusura ascolteremo il portavoce, tutti i gruppi possono dare un contributo anche al gruppo degli altri, quindi non vi sentite esclusi dalla discussione, ne scegliete uno come preferenza, consapevole che potete dare un contributo anche agli altri. Le questioni di metodo, la taglia in corte su questo perché non mi piace l'approccio accademico, universale, parto solo con questa considerazione, il termine partecipazione riveste i più svariati significati e copre le più sospette intenzioni, questo ce lo dobbiamo dire, quindi occhi attenti, sempre molto vigili, l'attenzione a distinguere analisi da progetto deriva proprio per salvaguardare questo, la costruiamo all'analisi e chiediamo di fare i conti con questa analisi, così come anche le informazioni, abbiamo bisogno di alcune informazioni, poi ce ne sono alcune che potete anche darci, tecnici, risultatori, perché è utile saperlo, però intanto ci sono delle domande che noi ci poniamo e con le quali ci sentiamo sicuri di poter argomentare alcuni aspetti. noi non siamo all'interno di un percorso così, ma siamo all'interno di un percorso così, con una variabile, anziché avere una slitta di ASCII, abbiamo Chihuahua, Nalano, abbiamo razze differenti, saperi differenti, attitudini differenti, di questo ne dobbiamo prendere in considerazione, qualcuno ha detto la volta scorsa, ma perché non lavoriamo sempre sui progetti, perché alcune hanno le competenze per i progetti, altri hanno la competenza di individuare i problemi, abbiamo una griglia generale perché tutti possiate trovare il modo di esprimersi, poi ci sono i canali e gli strumenti per integrare, chi ha voluto spendersi in progetti lo ha fatto, ha mandato un contributo scritto o una proposta progettuale, raccogliamo anche questo. Anche il Chihuahua posto nella posizione giunta della slitta dà il suo contributo, così come l'Alano e anche le altre razze, l'obiettivo di oggi è proprio quello di valorizzare il vostro sapere e la vostra differenza di esperienza e di competenza. Fine? Buon lavoro, ma come di alzarvi?